In Consiglio Comunale si è ripresentato il problema del bando di assegnazione per le case popolari, per le logi popolari che sarebbe stato bloccato. Il problema qual è? Dalle procedure che sta portando avanti l'amministrazione si intendono bloccare tutte le assegnazioni. Si blocca il bando per emergenza abitativa, si blocca le assegnazioni per bando generale. Di fatti si va a creare una situazione di grave tensione sociale perché comunque c'è una situazione di diffusa povertà e crescente povertà e quindi questa agenda aspetta con ansia una casa da anni e quindi andiamo a dire che per anni non possono poter aspirare per una loggio popolare. Sì perché queste abitazioni saranno assegnate agli abitanti di Via Longo. Sì, l'amministrazione per portare avanti le procedure di abbattimento devono trovare dell'abitazione per poter trasferire quegli assegnatari. Io onestamente colgo l'occasione perché sono stufo di questa storia di strumentalizzazione che io vado a terrorizzare quegli assegnatari di Via Longo. Io non sto terrorizzando nessuno, sto ponendo dei problemi seri su una materia in cui ho una certa competenza, quindi sto ponendo dei problemi seri all'amministrazione, sta seguendo un percorso accidentato, forse sarebbe stato meglio valutare diverse proposte per andare a riservare a un capo patrimonio. Bene fa l'amministrazione ad affrontare il problema di Via Longo perché è una priorità per questa città, per la sua ubicazione. Tra apparenze lì poi ci sono tanti alloggi non a norma e quindi in qualche modo deve prendere qualche iniziativa, però sta seguendo un percorso accidentato, oltretutto non deve nemmeno dimenticare che lì c'è una scheda di intervento sul piano regolatore quindi bisogna andare sicuramente a rivedere anche quella scheda di intervento. Si parla di 40 alloggi che saranno disponibili a breve, ma io onestamente questi 40 alloggi non li vedo perché se parliamo di alloggi ad oggi disponibili, tranne quei 9-10 dello steccone pronte perché mi risulta non so nemmeno se sono pronti tutte e 14, quindi tranne quelli poi bisogna andare a risanare acqua viva, risanare via del Vescovato, cioè si tratta di alloggi dove bisogna fare interventi di una certa rilevanza e quindi richiedono dei tempi lunghi. Ma lei ha parlato di illegittimità per questo blocco del bando? Secondo le mie competenze, per quanto riguarda l'articolo 15 della legge regionale, che è la legge che norma e disciplina tutte le assegnazioni degli alloggi popolari, l'amministrazione comunale può riservare una quota anche per risanamenti urbanistici, per interventi urbanistici, può riservare una quota non eccedente del 30%.